eccoci tornati a death space number one da vera che andiamo a 32 e mister c'è il gioco c'è meraviglia ancora sempre di più un bel gioco davvero zero a partire di te li possiamo utilizzarli i nodi mamma mia che credito ok una piastra sciocca bisogna combinarla con la termite per ritruggire la barricana come faccio merda mi arrivano ancora si spostano attraverso i condotti stai attento a isaac qui i si come faccio ad abbinarla ma questo non è un coso per te non è un coso per te non è un coso per te sposto Grazie a tutti. 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 Polpettina. Polpettina. Dovevo provare io il blocco praticamente su... Forse... Voglio di una grande zottola mutata. Mi sto facendo ingazzare ora. Oh! Oh! Credito! Credito! Ho tagliato la zampetta mentre l'ultima è aggrappata. E' ancora vivo. Abbiamo adesso spazio... Secondo me ne abbiamo meno di prima. Cosa? Spazio a prendere quella cosa. E' scomparsa. Oh! Sì! Sì! Un morto ammazzato è scomparso. Un morto ammazzato sì. Però siamo riusciti a prendere quella cosa. Ok. 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 Sì! 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 Vabbè! Andare indietro! Indietro! Ah! Andare! perché fare il tuo saltare no no è per il tale io voglio entrare a tu cosa ci vuole sull'attivata allora uso il nodo energetico ti puoi schiattare che ne pensi? no 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 cosa c'è perché la data? cavolo ma io ho perso un sacco di salute questa è l'ultima questa è salute doppia bomba aria media ah abbiamo la piccola quella media e basta non la vuoi prendere la porta e ci parla no cosa ci sarà la dente? cos'è un nodo? si 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 posso schiacciare? vabbè si si vediamo cosa c'è dentro se c'è niente mi rompo energia plasma no no questo si no no audio log avete trovato qualcosa laggiù vero? si abbiamo trovato qualcosa quindi i testi sono sempre stati esatti secondo dottore oh non c'era nulla di divino in quello che ho visto dobbiamo comprendere noi siamo i primi testimoni matius non lascerà scendere nessuno sulla polonia finchè non ne sapremo di più al diavolo matius questo c'è un accento strano è più grande di lui dell'operazione persino della compagnia dovrebbe saperlo questo il nostro aver detto tiene la luce bassa da lezione la gente sta morendo laggiù solo gli indegni e gli infedeli ma io ci credo madonna ma io dico dappertutto si trovano questi fanatici idioti ma facciamo prendere le cose questa roba l'ho comprata no dobbiamo tornare qua capito? si dobbiamo tornare qua ricorda di questa cosa? si ok 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 no che ero quella cosa? eh siamo morti ma che era? beh ah si 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 sei meglio sono morti quello è saltato amore quello è saltato quello esatto figli di una grandissima ancora no 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 che siete strafaggini avete nessuna sorpresa poco non capivo cos'era ok dobbiamo tornare indietro per attivare questo laboratorio di radio amniostro ok qua ci siamo qua c'è il negozio si aspetta poi possiamo posare la roba capito si allora inventario cassaforte schema scaricato ok schema ok perfetto vengono la cassaforte ok qui puoi spostare oggetti nell'inventario nell'inventario ok cosa fa navica seleziona esce seleziona perchè non posso usare no pezzo ecco forse aspettate voglio spostare questo cosa fa ci seleziono no ah muovi vogliamo yeah si allora questo possiamo pure questa plasma stasi quella piccola la possiamo che ne dobbiamo fare si si che è la meglio io torno Laura sì certo c'è il coso grande ok penso sia spazio facciamo una fa ok se voglio vedere se posso comprare la cosa aspetta credo di sì 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 12 mila abbiamo compriamo compriamo lancia a fiamma e quelle impulsi questo 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 tutto a livello 2 tutto a livello 2 no dai di cosa ti dico a me piace il fusile impulse è forte però a tutto a livello 2 è forte il fusile impulse deve essere forte però a tutto a livello 2 eh però a tutto a livello 2 e però il fusile impulse però a tutto a livello 2 è forte vuoi vedere come è figa sì è bella ma cosa è figa costa 7 mila quello possiamo comprare dopo abbiamo tante armi abbiamo tante armi avanti sì sì contiamo no no a tutto a livello 2 no sì e dopo guarda 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 e c'è un ventone che forte ton 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 so più figo di prima proprio manca la salute ok 2005 niente no aspetta non mi preoccupare abbiamo i medici ce l'abbiamo ehi chiudiamo il video allora chiudiamo il video salvo qua e chiudiamo il video ok chiudiamo qua il video ciao 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 ciao